Dopo il successo ottenuto quest'estate con la riunione in piazza Giorgini, la grande box è tornata a San Benedetto. Domenica pomeriggio, infatti, l'Accademia Pugilistica Gladium ha organizzato una serie di incontri dilettantistici fra i suoi atleti e quelli delle palestre di Ascoli, Fermo e Pesaro. Sei match che hanno fatto da preludio all'incontro clou della serata, quello fra i professionisti Karel Sandom, nipote del celebre Calambai, e Vladimir Borov. Buona la fluenza di pubblico, che dimostra quanto la nobile arte stia raggiungendo ottimi livelli anche in riviera. Da molto tempo, infatti, la box, sia dilettantistica che nazionale, non faceva tappa a San Benedetto, soddisfatto a tal proposito il neopresidente dell'Accademia San Benedettese Luigi Cava, che è già al lavoro per i prossimi eventi estivi. La Gladium conta una cinquantina di iscritti e gli atleti che domenica sono saliti sul ring non hanno affatto sfigurato, a testimonianza che la scuola del maestro Cabunda si sta facendo largo a livello regionale. Ad assistere agli incontri è anche il sindaco Giovanni Gaspari, seduto al fianco del presidente della Fondazione Carisap, Vincenzo Marini Marini. I due sono comparsi per la prima volta insieme pubblicamente, dopo le accese polemiche riguardanti la vicenda Ballarin. Per una volta alla box, più che far tirare scazzottate, ha rinsaldato, forse, un'amicizia.